Passo subito in vantaggio lo sgroi on time grazie alla rete del numero 7 Emanuele Bardelloni Il migliore in campo per gli Svizzeri Raddoppio numero 4 Alessio Iovine 3 a 0 per lo sgroi, ancora segno il numero 27 Emanuele Bardelloni Poker realizzato dal numero 6 Matteo Marotta Entra nel tabellino marcatore anche il numero 30 Alessandro Martinelli, sempre dello sgroi on time Accorce le distanze nel primo tempo il numero 9 Luca Arrigoni della pasticceria Chiodi Doppietta personale per il numero 30 Alessandro Martinelli, 6 a 1 Che è anche il risultato di fine primo tempo Lo sgroi on time ricomincia da dove aveva lasciato A segno con il numero 4 Alessio Iovine Entra nel tabellino dei marcatori anche il numero 23 Marco Leonardo Capano Segna anche il numero 5 da fuori aria Jonathan Broggini Accorce le distanze la pasticceria Chiodi grazie al numero 10 Stefano Panigada Emanuele Bardelloni era veramente in serata di grazia questa sera Realizza 3 gol di fila Chiude il valsello dei gol di numero 7 la pasticceria Chiodi Michael Corio Il risultato finale è di 12 a 3 Emanuele Bardelloni